Potrebbero esserci dei grandi colpi di scena nel corso della puntata video di Amici 2018 che vedremo in onda il prossimo sabato 13 gennaio in diretta tv dalle 14.10 su canale 5. Si tratta della prima puntata di questo nuovo anno di programmazione del Talent Show Mediaset che aprirà subito con la notizia di una possibile triplice squalifica che riguarda tre ballerini che sono stati scelti quest'anno. Chi sono i ballerini sotto accusa e per quale motivo adesso rischiano di essere fatti fuori dalla trasmissione di canale 5? Le anticipazioni su Amici 2018 rivelano che nel corso della nuova puntata del Daytime trasmessa oggi pomeriggio su canale 5 abbiamo visto che la maestra Alessandra Celentano ha fatto convocare in sala Nicola, Filippo e Vittorio i quali sono stati sospesi dalle lezioni all'interno della scuola di Cencita dopo aver avuto dei comportamenti che sono stati bollati come vergognosi da parte dell'insegnante stessa, la quale ha ricordato loro la grande fortuna che hanno avuto nell'essere stati scelti per prendere parte a questa trasmissione. Le parole della prof. Celentano sono state molto dure e ha avvertito che nel corso della puntata in diretta di Amici 2018 del 13 gennaio ci saranno dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Filippi, Vittorio e Nicolas, i quali rischiano seriamente di essere anche squalificati dalla scuola di Maria dei Filippi. Le parole shock di Alessandra Celentano di Amici Cos'è successo nel dettaglio al punto che la prof. Celentano era a dir poco adirata con i tre ballerini? Nel corso del daytime di oggi, la Celentano ha preferito non ripetere ciò. Che i tre concorrenti avevano fatto al punto da beccarsi questo inesorabile provvedimento di sblinare, ma dalle sue parole si capiva chiaramente che avessero combinato qualcosa di veramente grave che potrebbe mettere repentaglio il loro proseguimento all'interno della scuola. Non avete il cervello? Poi, quando succedono le cose, vi mettete a piangere ma piangete sempre dopo, ha chiusato la prof. Celentano durante il colloquio avuto con i tre ballerini in presenza di tutti gli altri concorrenti della scuola che ovviamente sono rimasti senza parole e si chiedevano cosa fosse successo. La verità dei fatti la scopriremo solo nel corso della puntata speciale di Amici 2018 Video in onda questo sabato pomeriggio a partire dalle 14.10 in diretta su canale 5. Amici 2018 Anticipazioni Amici di Maria